3, 2, 1, GO! Buon salvo ragazzi e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta del video I dialetti e challenge! Il video si chiama Mortacci Allora ragazzi, noi non faremo il napoletano perché veniamo da Napoli Però faremo il calabrese, il siciliano, il toscano e così via E faremo i dialetti Però ragazzi, noi non sappiamo che significano queste cose Quindi se sono parolacce o cose del genere Scusateci, noi non lo sappiamo, non parliamo né calabrese, né siciliano, né toscano, né niente Non vogliamo prendere in giro a nessuno di voi Anzi, perché ognuno ha la propria lingua Sì, quindi un bacione enorme col cuore E appunto ragazzi, pure se andiamo a vedere il napoletano Certe cose manco noi le sappiamo Quindi non si sa, non vogliamo prendere in giro a nessuno Facciamo questo gioco e via Quindi commentate cosa significano queste cose Allora ragazzi, questo è Veneto a soldi E un'altra cosa, commentate giù nei commenti Appunto che significa la cosa se voi venite da quel paese sapete E poi scrivete chi ha vinto, chi non e così via Quindi questo, Veneto a soldi Adesso è sempre senza schei 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 Ok, avanti Un macerati bene Un macerati bene Ragazzi, allora facciamo un siciliano fregare Adesso è sempre fuggi e foste fottuto 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 Adesso è sempre fuggi e fottuto e ci seguite ma ripetete qualche chilo quasi quasi se vorrebbe su un po' comprate se ne ma ripetete qualche chilo quasi quasi se vorrebbe che cosa da vuoi allora puoi chiese approfittare aspetta io come ha fatto tu anche su un buon Gesù circa 6-3-3-2-3 su Andesio Gesù ha rompito il canno su abbiamo fatto il canno aspetta che fai allora toscano cane chi da noi ha cacchè dorme? o gli ha qualcosa che ne piace? chi da noi ha cacchè dorme? e se aspetta chi da noi ha cacchè dorme? o gli ha qualcosa che ne piace? aaaaah shhh chi da noi ha cacchè dorme? e gli ha giusto Giulia dove sta una zitta che non sento le mie che arrabbiate chi da noi ha cacchè dorme? è qualcosa che le piace aspetta aspetta vai io senti il tuo cacca dolce e la notte che le dolce è qualcosa che le piace vabbè un bacio a noi ciao ciao allora ragazzi Romano cucina cucina talmente male che stasera mangiare caritas cucini tantamente male che stasera mescogli cucini tantamente male che stasera eseguo säger cucini tantamente male che stasera cucini tantamente male che stasera non mangiare caritas a me è il mattone ma non ne ho più esperto calabrese e schiaffo te ammiglio! non credi che tolsi dirai uno schiaffone te l'ho un stupro te ammiglio! da te me ne vede che tolsi te mi chiedi che tolsi Ma che significa che vieni a tutti qua giù? Allora, andiamo avanti. Fumo, fumo, stai all'eramento, torno a casa cellulare spento, mamma tranquilli, mi sto divertendo, sto con quelli che ti fanno il mezzo, boda il cellulare che ti dà la testa, forse è la stessa minestra mica la tua festa. La mia festa è la stessa minestra, la mia festa è la stessa minestra, get up, get up, out of my hand, for it's not, not to stay slow. Stop, don't touch me, loser, we don't wanna be like oh. Stop, don't touch me, loser, we don't wanna be like oh. Lombardi ragazzi, pancia. Sei che fate che mai ha ten fuma? Sei che un fa, un fa, un fa, un fa, un fa. Scusate. Un bacione. Sei che fate che mai ha ten fuma? Sì ne fate come un lombardo fuma. Un bacione a tutti i lombardi. Scusate. Scrivete che significa perché noi non lo sappiamo. Pasito, pasito, storico vestito, come trove canto pochito pochito. Ci vediamo. Scusate. 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 Vi ho visto che stai chiamato. ok vabbè un bacione a tutti i piedi montesi e vabbè scrivete cosa significa ragazzi se il video vi è piaciuto a 2000 like ne faremo un altro e scrivete giù nei commenti tutti quanti quelli che appunto lo sanno che significa scrivete che significa e scrivete se sono parolacce o no ma io non credo e ragazzi non abbiamo voluto prendere nessuno in giro quindi ci siamo veramente divertiti un sacco ognuno ha la propria lingua e viva l'Italia perché l'Italia ha tanti dialetti fighi quindi ragazzi 3, 2, 1 no ragazzi aspettate 3, 2, 1, 2 quindi ragazzi questo è il video spero vi è piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghegiulia.ca ci saranno tante foto su facebook marghegiulia.ca ci saranno tante informazioni sul secondo canale magi tv ci saranno tanti video di quando eravamo pizzera pizzera su musicali piaccia marghegiulia.ca ci saranno tanti musicali con tante musica ovviamente su youtube marghegiulia.ca se il video vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale e condividete se non vi è piaciuto ciao 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 ciao